Oggi facciamo delle polpette di melanzane morbidissime Ci occorrono due melanzane, togliamo la buccia e tagliamo a tocchetti Mettiamo in una padella olio d'oliva E aglio schiacciato e andiamo a soffriggere le melanzane Aggiungiamo anche un bicchiere d'acqua e facciamo cuocere fino a che saranno morbide Aggiungiamo sale e controlliamo se ci vuole altra acqua E cuociamo fino a che saranno morbide Una volta cotte le facciamo raffreddare in un colapasta Così rilasceranno tutta l'acqua di cottura Prendiamo un panino e lo tritiamo Avremo questa mollica morbida Aggiungiamo le melanzane, prezzemolo tritato, 4 cucchiai di formaggio e sale E infine un uovo Mescoliamo e amalgamiamo con le mani Formiamo le polpette e infine passiamo nel pan grattato Andiamo a freggere in olio di girasole ben caldo e cuociamo fino a doratura Potete farle anche al forno Vi lascio qui in alto a destra il link per le polpette al forno Lasciami un like e condividi se anche questa ricetta ti è piaciuta Iscriviti al canale Ciao